L'assistenza sanitaria tempestiva in caso di emergenza può fare la differenza e salvare anche vite umane. Ma Marchegiani, a Fano di notte c'è una sola ambulanza? Sì, purtroppo la situazione nostra è questa, che c'è un'ambulanza che fa H24, un'altra che invece assolve il servizio solo nell'ora di urne. E poiché sappiamo bene che le nostre ambulanze servono un territorio molto vasto, che riguarda anche Colli al Metauro, Terre Roveresche. Pochi giorni fa sono arrivati a Monteguiduccio, quindi che succede di notte quando l'unica ambulanza è così distante a un territorio così vasto, in particolare alla città, che per un'ora e mezza, due ore, non c'è il servizio e quindi può fare la differenza tra la vita e la morte. Quindi cosa si chiede? Si chiede ciò che Iesi, che Pesaro, che Ancona, che Senigalli hanno già, cioè due ambulanze con il personale, da non confondersi con il pur prezioso volontariato, che può essere assolto da convenzioni con Croce Rosso o altre croci, ma il volontariato è un personale che fa un altro mestiere, preparato ad alcuni bisogni elementari, quindi il trasporto, la dialisi, per carità, quella è un'altra storia. Qui serve proprio l'ambulanza con personale specializzato, sia nel ruolo dell'autista che nel ruolo del medico e del paramedico, che possa appunto soperire per fare un elettrocardiogramma, bloccare un infarto, quello serve per una comunità vasta come la nostra. Una comunità, peraltro, voglio aggiungere che è abbastanza inspiegabile, che supera di gran lunga i 50.000 abitanti, non ha una casa della salute, non ha una RSA, perché chiudono anche i 18 posti di RSA privata della Canta di Montevecchio, diventano residenza protetta, e c'è un ospedale dove si investe nei muri, cosa che a noi va anche bene, ma non sappiamo con quali contenuti. Quindi continuerà a appungolare le autorità competenti per risolvere queste criticità? Il ruolo nostro è questo, sicuramente, nel ruolo sia di consigliere che da sindaco, mi auguro, noi dobbiamo assolutamente rimettere in sesto una comunità, che è una comunità marchigiana. C'è una giunta regionale che lavora in questo senso, e abbiamo un consigliere regionale che si candida anche al ruolo di sindaco, quindi inutile dire che all'ospedale Santa Croce ci sono specialità di primo, addirittura di secondo livello, come si va ripetendo negli ultimi giorni, a parte che va contro il decreto Balduzzi e questo è impossibile. Raccontiamoci le cose come stanno. L'ospedale di Fano, negli ultimi quattro anni, è stato spogliato di molte specialità, sta diventando un poliambulatorio, e quello che si sta realizzando, se lo realizzeranno, questo nuovo ospedale di Pesaro, diventa un nuovo ospedale unico, più piccolo di quello contestatissimo, ma gli effetti saranno uguali se non cambiano le cose.